Nasce il 20 maggio 1955 nel quartiere di Viale Aretusa, nella periferia occidentale di Milano, ma cresce nel quartiere popolare delle case minime, vicino al Lorenteggio, dove abitavano i nonni paterni. Da Matteo, un calzolaio originario di Vieste, in provincia di Foggia, e da Rosa, una costumista originaria di Como, impiegata presso il Derby Club, uno tra i più celebri locali notturni milanesi attivi tra gli anni 60 e 70. Amico d'infanzia del quartiere è stato l'attore Ugo Conti. Nel 1984 sposa Rita Rabassini, dalla quale nel 1985 ha avuto una figlia, Marta, dopo la fine del matrimonio. Nel 1987, ha avuto due figli, Matteo, 1995, e Marco, 1997, da Giulia Begnotti.